Benvenuti a Tu per Tu, abbiamo ospite in questa puntata Michele Dallapiccola, consigliere provinciale del PAT, benvenuto. Grazie. Vogliamo parlare con lei innanzitutto di un tema che sicuramente è molto caldo in questa fine di luglio, ossia la concessione della 22. Cominciamo proprio con alcune considerazioni su questo tema. Direi che è estremamente caldo, visto il periodo, considerati i bollini che vengono attribuiti a questa arteria viaria. Ma al di là della fruizione che noi abbiamo di questo importante tratto stradale, perché oserei dire è una condizione sintomatica dell'amministrare leghista del Trentino. Noi abbiamo avuto un periodo ormai piuttosto lungo, sono passati quasi tre anni dall'insediamento di questa amministrazione e chi vi parla ha un ruolo di controllo o di opposizione, se vogliamo, che gli permette, anzi gli impone di ragionare intorno a alcune condizioni che possano essere considerate critiche. Diciamo che questo mandato è stato caratterizzato da dei fatti molto forti e potenti, innanzitutto Vaia, successivamente il Covid, alcune condizioni piuttosto pesanti da dover sopportare e che di fatto la Lega in qualche maniera ha subito, ha gestito. Non possiamo enunciare forti critiche, ma non abbiamo nemmeno slanci di passione verso l'atteggiamento amministrativo. Di fatto anche le azioni ordinarie non sono andate oltre il cercare di risolvere alcuni piccoli problemi. Parlo dell'abbonamento gratis agli anziani, dell'asilo a poco prezzo per il mese di luglio, delle domeniche chiuse. Insomma, alcuni fatti positivi, interessanti, mal gestiti, ma soprattutto che hanno dato poi il risultato di accendere la diatriba tra chi voleva e chi no. Cominciano a venire nodi al pettine da vecchi problemi. Si ascolta l'amministrazione che racconta spesso del fatto che la colpa è di quelli di prima e hanno ragione. Se ci sono i problemi oggi è perché ci sono decenni di amministrazione che in qualche maniera li ha costruiti, creati, non risolti. Certo, tre anni non sono pochi. In tre anni, ad esempio, la provincia autonoma di Trento ha messo sul piatto 15 miliardi di euro. Noi, trentini, durante il mandato leghista, abbiamo speso 15 miliardi, molti dei quali vanno in gestione ordinaria, alcuni per fare che cosa? Ce lo dobbiamo chiedere, perché tre anni non sono pochi per cominciare a vedere le bozze di un proprio disegno. E sicuramente sulla partita delle infrastrutture si gioca, ad esempio, uno di questi. Non entrerò nel tema della sanità, che è piuttosto complesso, ma ha già dato dimostrazione che, al non aver programmazione, ci sono i problemi, ma non ci sono nemmeno le ipotesi di soluzione. Ma per quanto riguarda le partite viabilistiche, quelle forti, dove sono necessari degli accordi, si accende un disegno che a questo punto ci sembra, ai noi, purtroppo piuttosto chiaro. Sulla 22 noi sappiamo che c'era una volontà precisa da parte dell'amministrazione provinciale precedente, delle amministrazioni provinciali precedenti, di collaborare con Bolzano nel tentativo di gestire in-house questa importante arteria per poterne beneficiare degli utili. Oggi la proposta è quella di andare verso una proroga con un Fugatti che ragiona con un'amministrazione che guarda più a sud, quindi le due volontà si sono particolarmente divise. Potrebbe anche essere un'incomprensione, questa non ci fosse un suggello, la partita valdastico. La proposta leghista è stata quella di stralciare un progetto abbozzato solo inizialmente al termine del mandato Rossi, tant'è che non era ancora stato né discusso né ragionato insieme alle comunità e questo ha provocato profondo disagio, ci mancherebbe. Ma a questo punto una proposta che di fatto connette strettamente l'asse leghista trentino con quello veneto, non a caso l'endorsement di Zaia e delle imprese venete, per portare la valdastico ad un tracciato discutibilissimo dal punto di vista ambientale, ma che soprattutto ha ragionato con loro. A noi piacerebbe che i ragionamenti su valdastico, su A22, sulla viabilità importante e fondamentale, fossero sempre caratterizzati dal vedere sullo stesso tavolo il nostro presidente Fugati e Arno Compacer. Di fatto ai noi, purtroppo, le figure sui tavoli non sono queste. Le facciamo, prima di chiudere, anche una domanda sull'assessamento di bilancio che, lo sappiamo, arriva in consiglio, arriva in aula proprio con l'inizio della prossima settimana. È un assestamento di bilancio che cerca ovviamente di gestire le difficoltà e fa bene a far così, i buchi sono troppi, quindi dobbiamo dare una mano al nostro tessuto sociale. Io mi occuperò di un problema grave che è il disagio del settore agricolo. Le difficoltà sono molte, al di là di quelle climatiche o delle fitopatie che ci sono, ad esempio, nell'agricoltura, c'è un problema nascosto, sommerso, del quale nessuno parla. La zootecnia. Un terzo del Trentino è coltivato, due terzi invece appartengono ai boschi, ma quel terzo coltivato è fondamentale in mano agli zootecnici che hanno circa sei volte tanto la superficie dell'ortofrutta. Se noi però vendiamo un Trentino verde chiaro e verde scuro è perché c'è chi coltiva i prati. Sapete quante sono le aziende che coltivano quei prati oggi in Trentino professionali? 750. Ci sono 750 famiglie nelle mani delle quali c'è tutto il nostro Trentino turistico. Che cosa stiamo facendo perché si fermi questa emoragia di partite IVA? Che cosa stiamo facendo per fermare la diminuzione degli impiegati in questo settore? Grazie, grazie infinite con questi interrogativi molto interessanti. Ringraziamo molto Michele Dallapicola, consigliere provinciale del PAT, che è stato nostro ospite di questa puntata di A Tu per Tu. A Tu per Tu ritorna prestissimo. Arrivederci. Grazie a tutti.